Siamo all'interno della direzione del credito cooperativo della Valdinievole, nella sede di Montegatini. Qui con me ho il presidente, il signor Belloni, Alessandro Belloni. Ci chiamiamo uguali, io Alessandro Artini e Alessandro Belloni. Allora, oggi una giornata importante per esentazione del bilancio. Sì, oggi presentiamo alla stampa in funzione dell'assemblea che si terrà domani il risultato d'esercizio del 2013, un risultato riteniamo importante e chiudiamo questo anno con 1.300.000 euro di utile netto, con un bilancio sostanzialmente molto prudente in virtù di oltre 11 milioni di accantonamenti che sono stati fatti. Quindi un anno difficile, però un anno in cui ancora il credito della Valdinievole si è dimostrato vicino ai propri territori e quindi il risultato positivo che non può essere di buon auspicio per quello che la banca sta facendo. Si parlava prima anche, come si usa a dire noi, dello spettacolo della televisione dietro le quinte di rinnovi di cariche, di queste cose qui. Sì, è scaduto, sta scadendo il mandato di questo Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, quindi domani sarà sottoposta l'assemblea al rinnovo delle cariche sociali. È stato un triennio duro, mezzo a una crisi importante in cui il Consiglio di Amministrazione ha, penso, lavorato tanto, con serietà, con scrupolo, con attenzione soprattutto nei confronti prima della banca che deve amministrare, ma anche poi dei territori e delle richieste che questi territori ci fanno. Quindi sono soddisfatto e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale che in questi tre anni mi hanno affiancato. Allora, una domanda che potrebbe sembrare cattiva, ma in realtà non è. Insomma, in un mondo in cui queste banche sono massacrate dal popolo, dai giornalisti, dalla gente. Ecco, questo microfono lei lo usi per dire ciò che invece il suo gruppo, la sua banca, fa per venire incontro alla gente. Beh, insomma, è lo sport del momento. Probabilmente... Parlar male delle banche. Sì, probabilmente anche a volte con qualche ragione. Purtroppo l'informazione non è sempre corretta. Ci sono banche e banche. Noi banche di credito cooperativo siamo entità un pochino più particolari. Quest'anno festeggiamo i 130 anni dalla Costituzione della prima banca di credito cooperativo all'Oreggia, sul vicino Padova. E se dopo 130 anni parliamo ancora di credito cooperativo, vuol dire che queste banche qualcosa hanno fatto. In questi periodi di grandi crisi, addetta di tanti operatori, anche importanti internazionali, è stato riconosciuto che il credito cooperativo è un mondo che più di altri è stato vicino alle esigenze dei propri territori e ha fatto tanto. Naturalmente facendo tanto si è assunto anche tanti rischi e quindi i problemi anche nel nostro mondo li ha, le ha importanti, però noi siamo una banca e siamo banche che raccogliamo sui nostri territori per rimpiegare sui nostri territori. Quindi non abbiamo i tre monti wonder, non possiamo andare in borsa a raccogliere denari e soprattutto non abbiamo interessi da dividere poi, perché i dividendi vanno ai soci e questo è importante. Quindi siamo un mondo un pochino diverso, però come tu... Mattel Montecatini, scusi, queste cose le sapeva e insomma diamo una volta l'opportunità quando una banca si comporta bene, insomma diamo l'opportunità di dirlo. Noi cerchiamo di fare bene, poi purtroppo le difficoltà, come ho detto, ci sono, ci sono per tutte, però insomma noi siamo qui e vogliamo continuare a esserci soprattutto per, ripeto, per quelli che da 130 anni ci danno fiducia. Buon lavoro, Presidente. Grazie infinito. Il signor Quiriconi, direttore generale del credito cooperativo, abbiamo parlato con il Presidente di bilancio, abbiamo parlato anche un po' di cifre, di numeri e l'era con lei da direttore uomo sul campo, vorrei capire se è soddisfatto di questo bilancio. Beh, indubbiamente è un risultato importante, un risultato che comunque conferma la presenza della banca sul territorio come banca di riferimento e visto i tempi che corrono sicuramente è un risultato di tutto prestigio. La nostra è un ammettente web, no? Internet è un po' il mondo dei giovani. Quanto il vostro gruppo, il credito cooperativo direttore, è vicino ai giovani? Ma noi come uno dei punti di forza appunto crediamo che essendo i giovani il nostro futuro stiamo lavorando per predisporre tutta una serie di iniziative, non ultima la creazione di un club dei giovani soci che sarà tipo una scuola per creare i futuri amministratori del mondo della cooperazione futura. Perciò attivare tutte quelle iniziative che possano servire a far crescere i giovani all'interno di un movimento che ormai sta diventando il punto di riferimento finanziario a livello nazionale. Grazie direttore. Grazie a voi. Talvolta non è facile muoversi nel mondo dei bilanci, dei numeri, delle cifre, ma ringraziando Alessandro Belloni che è il presidente del credito della Valdinievole e Leonardo Quiriconi, direttore generale, siamo riusciti forse a capire qualcosa di più e avere un po' le idee chiare e capire che le banche, perlomeno in questo caso soprattutto questa banca, è un pochino più vicina a noi. Grazie. Grazie. Grazie.